Maya e Lina Ciao! Io sono Maya e questa è la nostra Lina! Maya, dov'è Lina? Non lo so! È scomparsa! È scomparsa! Forse è nel lettino? Va subito a vedere! Forse è sotto al letto grande? Maya, guarda! Lina non c'è! Lo so! È andata a giocare con le palline! Andiamo a vedere! Fatti aiutare! Lina non c'è! Eccola! Si è fatta sotto! Bisogna cambiarle il pannolino! E dove stanno i pannolini? Io lo so! Vieni con me! Maya, dove bisogna mettere i pantaloni sporchi? Nella lavatrice! Perfetto! Maya, che brava che sei! Lina servono dei pantaloni puliti! Prendili! E la maglietta? Giusto! Maya, adesso bisogna mettervi la maglietta! Faccio da sola! Faccio da sola! Abbiamo vestito Lina! Oh, sta piangendo! Ci vuole il ciuccio! Maya, dov'è il nostro ciuccio? Andiamolo a cercare! Andiamo! Forse è nell'armadio! Credi che sia qui? Forse è qui? No! Dov'è il suo ciuccio? No! No! Eccola il ciuccio! Che bello che abbiamo trovato Lina! Ma cosa è successo alla nostra stanza? Mettiamo in ordine? Sì! Bisogna mettere in ordine nella stanza, sì! Eccola il ciuccio! Eccola il ciuccio! Tutto in ordine? Con un gelato! Gnam gnam! Com'è buono, Maya! Ti è mai capitato che i tuoi giocattoli scomparissero? Metti mi piace e guarda il nostro prossimo video di Maya e Lina! Ciao!